La notizia di oggi è l'accordo che lei e Grillo avete trovato, credo di usare un eufemismo se devo stare ai titoli di stampa di oggi, sul fatto che non ci sarà il suo nome sul simbolo del movimento per questa campagna elettorale. Intanto le chiedo se ci è rimasto male e poi perché voleva il suo nome, non è un po' la negazione dell'uno vale uno, il nome del capo politico sul simbolo. Le posso dare una notizia? E forse prevengo anche... Tutte quelle che vuole, non cerchiamo altro. Altre domande sul tema. In questi giorni sto leggendo sui giornali deliziosi articoli in cui si ragiona di conflitti tra me e Grillo sul nome e sul simbolo, si ragiona di conflitti tra me e Grillo per quanto riguarda la formazione delle liste, i criteri, eccetera. Tanti articoli. Non sono veri. La notizia è che io e Grillo non abbiamo mai discusso... Ma lei il nome ce lo voleva o no sul simbolo? Ma io non ho mai fatto... Se avessi fatto questa proposta ne avremmo discusso. Questa proposta non è mai stata messa sul tavolo. Ok. Lei non voleva il nome né simbolo. Guardi, noi abbiamo un simbolo che è fortemente identificativo. L'abbiamo cambiato quando io sono diventato leader. Abbiamo approvato il nuovo statuto, abbiamo introdotto quella data, 2050, che è l'anno della neutralità climatica. È una data simbolo significativa... È la stessa di Dinka, del movimento... No, scherzo. Il movimento del ministro Dinka... Vedo che qualche reminiscenza dei vecchi principi e valori è rimasta anche a loro. No, però... Detto questo, anche sulla formazione delle liste, ma abbiamo delle regole statutari? Tutti questi articoli, ho tutto il rispetto per i colleghi che hanno scritto quegli articoli, sono articoli inutili. Non c'è niente di vero. Sì, sapere.